Rally dei Laghi, il ritorno della tradizione storica vista l'edizione numero 31, piacevolmente ritrovata, a visti gli anni di Covid che hanno imposto rinunce e versioni ridotte. Venerdì 24 febbraio evento spettacolo all'ippodromo, sabato 25, spazio agli oltre 100 equipaggi, in arrivo dall'Italia e dall'estero e alle loro prove speciali. Che sono il Sette Termini, l'Alpe Tedesco e il Cuvignone, che saranno proprio in questo ordine, verranno ripetute due volte e poi l'arrivo giù alla schiranna di Varese, finalmente senza recinzioni e con l'abbraccio del pubblico che purtroppo il Covid fino all'anno scorso aveva impedito. In chiusura una raccomandazione a rischiare è previsto che siano i piloti, non il pubblico. Si va a vedere uno spettacolo motoristico, quindi sulle prove speciali bisogna usare anche la testa e posizionarsi nei posti sicuri, visto che ce ne sono tantissimi lungo le prove.